5 del mattino sono pezzi dormito veramente male avevo fatto dormito con l'ungarese minchia allora seppier russo l'ungarese anche lui una bella sega una bella segheria è stata veramente dura penso di essermi addormentato attorno alle 3 quindi sono cortissimo di sono adesso siamo qua aspettando che il sole venga fuori spettacolo da questa parte qui non ci si riesce ad avvicinare da questa zona a questa zona perché il vento viene in questa direzione quindi a questa distanza è già difficile stare il sole verrà fuori di là quindi il frontale sarà molto difficile e complicato anche giuzzo adesso si sta allontanando perché fa caldo come gira il vento quasi non è che si rischia però che arriva aria 100 200 gradi non è piacevole può durare qualche qualche secondo qualche attimo la notte parte quello imprevisto notturno avuto altri svolti negativi come infatti davvero qualche insetto che si è infilato dentro continua a fare un casino sulla tenda insomma non sempre una per lamentarmi anche nel deserto tuttavia tuttavia va bene così ciao